Bene, questa è la Clubhouse Autismo del centro di riferimento regionale, uno spazio in pieno centro storico, credo sia anche un valore simbolico particolarmente importante. Siamo in via Castello numero 39. Esatto, l'Aquila, in centro all'Aquila, è un fatto estremamente importante. Qui verranno a lavorare in gruppo, a fare le attività, i ragazzi ad alto funzionamento che noi seguiamo nel team Casa di Michele. Si svolgeranno inoltre altre attività specifiche, programmi individualizzati, incontri di parent training con le famiglie. Ci sarà un punto di informazioni per i cittadini, uno sportello che adesso vedremo come... Facciamo vedere lo spazio, questa è... Allora, qui c'è un importante investimento che ha fatto l'azienda sanitaria, anche in termini economici. Grazie alla direzione strategica aziendale per la sensibilità. Abbiamo arredato con tutto quanto è necessario, c'è una cucina per svolgere delle attività di tipo ricreativa e sociale. I nostri ragazzi quindi qui potranno appunto incontrarsi, autodeterminare alcuni momenti ludici, di condivisione, ci sono degli spazi comuni in cui verranno svolte delle attività, in cui sarà possibile incontrare persone, famiglie... E' anche grande, quanti metri quadri sono? Sono poco meno di 300 metri, insomma... C'è il video... E ci sono due sale in cui potranno essere svolte delle attività, ma si sono anche accessibili a persone che hanno difficoltà di tipo deambulatorio. C'è una rampa di accesso, peraltro prego ad aumentare per persone con difficoltà, e una serie più uffici e naturalmente... Quanto serve per poter condividere dei momenti importanti? Ecco, perché poi la riabilitazione passa anche e soprattutto ormai, questo è chiaro, in momenti di condivisione, di socializzazione, di esperienze. Poi, ripeto, ha un valore molto importante il fatto che sia al centro della città e non in un luogo isolato. I ragazzi possono venire qui, uscire... Ce ne vanno al castello... Il castello è qui davanti, il centro è qui, il sabato umeriggio, se vogliono, possono appoggiarsi qui, uscire... Come regolamentata, nel senso che ci sono volontari, c'è personale, oppure magari qualcuno che ci segue è interessato... Allora, partirei innanzitutto come un'attività specifica del nostro centro semiresidenziale Casa di Michele, che è gestito dalla cooperativa Lavoriamo Insieme per la parte educativa, attuativa, ed è diretto dal centro di riferimento regionale. Quindi, intanto lavoreranno qui con le attività di gruppo già programmate. Via via estenderemo le attività di cui ho parlato con l'ausilio di volontari, di personale, di borsisti, insomma, di persone che ci danno una mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.